A BASTIALE Amici siamo di nuovo con Fortunato Sommella, un'altra trasmissione, altri argomenti che riguardano il partito pensionato. Io questa mattina voglio porre l'accento sulla zona alta della città e ho con me delle persone che hanno l'avventura di abitarci così come ci abito io. Abbiamo a che fare con un governo del territorio che è diviso addirittura fra almeno tre municipalità. Il territorio di Napoli, lo sapete amici telespettatori, è diviso in dieci municipalità. Noi stamattina per parlare della zona alta dobbiamo fare riferimento alla ottava municipalità, alla quinta municipalità e alla decima municipalità. Cioè facciamo riferimento a Pianura, Soccavo, decima municipalità. Facciamo riferimento a Arenella, Vomero, quinta municipalità. Facciamo riferimento a Scampia, Chiaiano, Piscino, La Marenella con l'ottava municipalità. E' allucinante una cosa del genere. Cioè che cosa fa balzare agli occhi l'assurdità di una suddivisione di un territorio in questa maniera? La collina dei Camaldoli. La collina dei Camaldoli sulla quale convergono tre municipalità. La collina dei Camaldoli diventa periferia delle periferie. Certo. Questa è la realtà. E io ho piacere stamattina di avere con me persone che abitano nella quinta municipalità, che abitano nell'ottava municipalità e che abitano nella quinta municipalità. E c'è a fianco a me una signora in particolare. Ecco, parlare di Santa Croce, di Chiaiano, della zona ospedaliera, chi meglio di lei? Certo. Un territorio completamente abbandonato a se stesso. Strade senza le fognature, siamo pieni di spazzatura, a piedi non si può camminare perché hanno messo pali, segnali. Non si può camminare con la sedia a rotelle, con un passeggino. Le cose... Scusi, quale strade? Per essere chiari a chi segue la casa? Io non riesco a passare, ho un parente con la sedia a rotelle, non riesce a scendere dal Monaldi a Cappella Cangiani. Ci sono delle barriere insormontabili e non si può scendere. Se volete ci potete intervistare, vengo con mio zio con la sedia a rotelle e vediamo se scende dal Monaldi a Cappella Cangiani. Non si riesce a scendere. Allagate perché non puliscono i tombini, fognature, neanche a pensarci. La seconda attraversa di via Leonardo Bianchi, che attualmente si chiama via Lidia Cottone, le fogne risalgono al 1920-30. Non so quando le hanno costruite la prima volta. Io ho 50 anni e le fogne sono sempre quelle. Praticamente si allaga tutto, diventa tutto un fiume. Non ne parliamo poi della strada che dal Monaldi raggiunge Piazzetta Ponte Caracciolo, via Orsolone-Santa Croce. È terribile, è un fiume. Il traffico. Il traffico non ne parliamo. Dovete uscire la mattina entro le 7.20. Se non uscite per le 7.20 non riusciamo più a raggiungere Cappella Cangiani, per esempio, la Tangenziale, altre zone. Siamo completamente bloccati nella zona ospedaliera, siamo paralizzati. In questi 5 anni di De Magistris, lei che cosa ha notato di nuovo? Siamo andati indietro. Delle regressione. Tutto, tutto, tutto è tornato indietro. Non ho notato nulla di positivo, nessun cambiamento, nulla. Si va solo indietro. Noi insieme ci siamo fatti un giro per la collina dei Camaldoli. Abbiamo visto quel meraviglioso parco dove ci sono dei castagnetti. Abbiamo delle belle immagini di repertorio in una puntata proprio specifica sul parco dei Camaldoli. Ma tutto rimane immobile. Noi abbiamo ripreso anche le zone di cui parlava la signora. Abbiamo ripreso Leonardo Bianchi, abbiamo ripreso Via Quagliariello, abbiamo ripreso le zone di cui diceva la signora. Sono zone che gridano vendetta nei confronti degli amministratori napoletani. Sono zone vissute. Mi vanto di averle vissute e di essermi battuto nel passato e ancora oggi lo facciamo con lo stesso fervore, con lo stesso accanimento. Perché sono zone che dagli anni 70, 80, 90, a venire avanti non è cambiato niente. Abbandonate. Niente. Tutto vecchio. L'unica cosa che è cambiata è la urbanizzazione. Sono state immesse nuovi inserimenti abitativi e non si è provveduto a regolarizzare le cose che sono nel sottosuolo. Per cui si crea, quello che diceva la signora, l'allagamento e la impossibilità di camminamento da parte di coloro i quali purtroppo sono disabili. La raccolta differenziata funziona? No. Voi come moggiate questi rifiuti? Li vengono a prendere nei giorni giusti. Il problema è che non hanno istruito la popolazione e quindi gli anziani non riescono ancora a comprendere che il piatto di plastica va messo nell'indifferenziato ma che non è riciclabile. Non c'è stata un'educazione, una preparazione degli utenti. Per cui non riescono, soprattutto le persone di una certa età, non riescono ad effettuare una buona raccolta. E poi c'è questa questione che avevano promesso di pulire i bidoni, invece non ripassano. E poi basta lasciare un bidone fuori e diventa il luogo pubblico del deposito di rifiuti di tutti. Quindi bisogna ritirarli dei... Dal mio punto di vista non funziona, perché su dici condomini, per esempio, di cui mi occupo, su due condomini funziona e negli altri ottono. Negli altri ottono. Ma De Magistris ne ha fatto un punto di orgoglio la sua raccolta differenziale. Io insisto su questo, perché io cerco di raccogliere quelli che sono i disagi dei cittadini e comunicare... Sindaco, può darsi che lei questa trasmissione la può ascoltare. Questo è al di là del movimento politico e anche sono dei punti di osservazione della città. Vedete, noi abbiamo insistito nei mesi passati, e lo faccio ancora stamattina, me ne dà l'occasione la signora, che ha messo il dito in piaghe che tutti coloro i quali passano attraverso queste strade si possono rendere conto. Facciamo le foto fuori all'ingresso del Policlinico. E' una realtà vera. Allora, che cosa voglio dire io? Trenta consiglieri di municipalità, tutti pagati. Poco, ha detta loro, 500 euro al mese all'incirca. In più, quattro assessori di municipalità. Un presidente lautamente pagato. Che è vero, non ci sono i poteri delegati da parte del centro, però c'è una dignità che dovrebbe caratterizzare il presidente, i quattro assessori e i trenta consiglieri, i quali dovrebbero insieme andare al centro, io dico insieme a tutti quanti gli altri consiglieri, sono 300 in tutta la città di Napoli, dieci presidenti e quaranta assessori. Andare dal sindaco, oggi è De Magistris, per il passato sono stati gli altri sindaci, sempre di sinistra, e dire, amico mio, noi stiamo qua per lo tempo e ci mangiare i sordi. Dacci la possibilità di poter incidere su un'organizzazione che tu non hai saputo fare, perché tu l'organizzazione, tu sindaco, De Magistris e tutti quelli che ti hanno preceduto, non hai saputo fare l'organizzazione, non hai saputo insegnare, diceva la signora, dovevi fare il porta a porta. Inizialmente, tutti quanti voi, la continuità di questo comune di Napoli nella fase organizzativa non c'è stata e i napoletani dovrebbero ribellarsi e ne hanno l'occasione a giugno prossimo, a maggio prossimo, quando andremo a votare. E dobbiamo andare a votare, dobbiamo andare a votare. Noi vi chiediamo due cose, andare a votare e dare un consenso diverso. Siamo l'unico fatto nuovo e serio che ci sta nell'ambito della politica napoletana. E allora questo è quello che vi chiediamo, andate a votare e segnate il nostro simbolo. Questo è quello che dovete fare per uscire dal pantano, perché noi siamo in un vero e proprio pantano. Io vorrei allargare anche agli altri amici. Allora, prego. Allora, sì, io ringrazio il signor Fortunato Sommella che mi dà la possibilità di esprimermi in riferimento a quanto io noto per quelle che concerne la mia municipalità. Io insisto sulla quinta... Ma dove abita? Io abito in via Modeo, quindi insisto sulla quinta municipalità e diciamo così, per una rapida carellata, altrimenti necessita molto tempo e quindi non voglio essere manco scurrile nel elencare il mio disappunto in riferimento alla situazione. Voglio semplicemente evidenziare che è vero che da alcuni giorni ha avuto inizio la raccolta differenziata, ma è altrettanto vero che le strade sono sempre sporche, che le catitoi quindi per il contenimento delle acque pluviali non sono idonee. Quindi quando si chiede che debbano essere pulite, subito viene detto che non ci sono soldi. Allora io mi chiedo... Chi ha chiesto queste cose? Chiedo scusa. Agli stessi operatori della SIA, gli stessi operatori che sono venuti per vedere un pochettino le catitoi e quindi veniva detto che non avevano manco gli attrezzi per poter visionare diciamo così queste catitoi e quindi per il contenimento delle acque. Quindi le strade sono sempre sporche, sono malandate come viene detto appunto da una signora lì che mi ricorda sto fatto, pieno di piccoli buche e uno deve fare attenzione perché dico piccole per essere di grandi buche... La polivica aumenta sempre, noi cerchiamo di sintetizzarla. Dicevo che in effetti vi sono molte buche e quindi se uno non fa attenzione rischia di scassare come si suol dire la macchina, quindi una ruota dentro lì, si rompe una ruota e può danneggiare, se si rompe un semiassi può danneggiare qualcuno lì. Inoltre... Sicuramente riconosciamo questi problemi che noi giriamo la mattina sera a Napoli e ogni tanto abbiamo questi problemi. Inoltre volevo semplicemente porre l'attenzione su altri due fattori e due problemi. Il primo, praticamente i servizi pubblici. I pullman prima di tutto sono pochi. Secondo, non abbiamo un orario. Cioè praticamente in un paese civile che cosa si fa? Sta scritto, dice questo pullman passa alle 10 di mattina. Se non sono le 10, sono le 10 e 5. Invece non si sa e quindi possono passare quanto gli pare e piacciono. Anche se sembra che ci sia in itinere una legge per penalizzare i comuni che non rispettano gli orari. Quindi se questo è vero e quindi andrà avanti per poter utilizzare questa legge, significa che ci devono stare gli orari. Allora dice questo mezzo passa a questo. Il problema l'abbiamo capito, stiamo parlando solamente del disagio dei mezzi pubblici che non arrivano in orario, strade sporche, insomma sempre la solita storia. E ci sta la cosa più importante, facendo il riferimento al diritto e quindi mi rivolgo per il momento all'attuale sindaco, quindi tanto di rispetto, che in effetti essendo un magistrato ci sono le cosiddette strisce blu. Per quelle che concerne le strisce blu, articolo 7 del codice della strada, se non vado errato, dice che devono stare al di fuori della carreggiata, invece stanno al di dentro della carreggiata. E quindi è un abuso che un magistrato prima di tutto deve vedere e deve eliminare. Voglio aggiungere ancora due minuti, prendo di tempo. Sicuramente non si va a danno dei lavoratori, quindi qualcuno dirà, ma loro questi, gli ausiliari del traffico, che cosa faranno? Faranno gli ausiliari sociosanitari, verranno convertiti in diversa manzione. Per l'eliminazione delle strisce blu. Io sono per l'eliminazione delle strisce blu e sono che questi ausiliari del traffico devono fare gli ausiliari sociosanitari, perché Napoli, io non voglio essere scurrido, navigano nell'immondizia e gira attorno alla merda dei cani, che non si può camminare sui marciapiedi. I bambini vanno con i piedi, ci andiamo anche noi anziani, e le mamme, e le mamme sgridano i bambini, invece dovrebbero sgridare gli amministratori, non i bambini. Bene, io le devo lasciare, tagliare la parola, perché devo continuare. Allora, un altro amico del Partito Pensionati. Senz'altro, sì. Sì, allora, dobbiamo guardare in telecamera. Sì, ho capito. Allora, i suoi problemi. I miei problemi sono quelli di tutti, praticamente. Io abito a San Giacomo dei Capri. Adesso hanno differenziato, bisogna mettere le carte nei nuovi contenitori. Dove abito io a metà di San Giacomo dei Capri. Devo fare 700 metri, 800 metri di salita, perché non c'è un contenitore in quella zona. In quanto dici che sono zone private, per cui non possono... Comunque, tutto quello che ho sentito approvo fermamente. È inutile ripetere le stesse cose che hanno detto gli altri. Io conosco, ho avuto l'onore e il piacere di conoscere il signor Sommella da cinque anni, cinque, sei anni che lo conosco, ma non per fare adesso... È una delle persone più serie. Purtroppo non prende voti, perché la gente evidentemente si fa influenzare da altre cose. Ma questo è in passato. Io perciò, adesso bisogna assolutamente cambiare con questo nuovo partito e con la speranza che il signor Sommella, come fa sempre, continui a portare delle buone novità a questa vecchia politica che ci ha rotto le scatole. Perdonate la frase proprio per me. Allora, torniamo un attimo invece ad un altro, concludiamo. Sono Carlo Refice, candidato al Partito dei pensionati d'Europa. Faccio ancora una volta appella sia ai pensionati che ai giovani di mandare a casa queste amministrazioni incapace di governare la nostra Napoli. Da sempre, da quasi trent'anni, che amministrano. Quarant'anni amministrano Napoli, ma non l'amministrano. L'hanno disastrata. E allora faccio appello di andare a votare tutti, mandarle a casa. Faremo di meglio, faremo di più, come Partito dei pensionati. Siamo noi i pensionati. Siamo quelli che abbiamo fatto Napoli ricca, Napoli bella. Questi signori sono uniti, non ci appartengono. Hanno disastrato il nostro paese. Vi ringrazio. Andiamo a votare. Votate per il Partito dei pensionati d'Europa. Faremo di più. Sicuramente l'appello al voto è stato fatto. Quindi le tue conclusioni. Io penso che queste bucci che noi stiamo ascoltando nel tempo che abbiamo avviato questa azione di conoscenza, io direi, della realtà vera di Napoli attraverso le immagini e attraverso il far parlare le persone, sia un'attività assolutamente benemerita. Io penso che i napoletani abbiano bisogno di avere coraggio. Se si è verificato che oggi, adesso che stiamo parlando, noi dobbiamo purtroppo registrare 40 anni, ripeto, dal 1976 ad oggi, 2016, di una gestione napoletana fatta dai partiti della sinistra. Se è vero come è vero, che le cose che sono state argomentate oggi e che abbiamo fatto argomentare da altri, non soltanto dalla nostra voce, dai cittadini stessi, sono vere, perché sono la realtà, perché altrimenti non avremmo la faccia. non siamo senza dignità come hanno dimostrato di esserlo i signori consiglieri di municipalità, presidenti di municipalità e assessori di municipalità che da troppo tempo, da 40 anni, stanno ad un gioco sporco del comune centrale che non decentra niente. Allora, noi diciamo, queste cose vi dovrebbero incitare a cambiare atteggiamento. Voi, la prima cosa, e ve lo chiediamo, ripeto, io non smetterò mai di chiedere, due cose vi chiediamo, non vogliamo niente altro da voi, due cose che sono importanti. Uno, vi chiediamo di uscire da casa il giorno che saranno indette le elezioni e che sarete chiamati a votare. Dovete andare a votare, perché non andando a votare voi perpetuate la miseria a Napoli, voi perpetuate la brutta condizione delle zone di Napoli come quelle di cui parlava la signora poco fa, Santa Croce, Camaldoli, Leonardo Bianchi, Cappella Cangiani, sono zona ospedaliera, le zone dello scandalo, vero? Perché noi in questa zona ospiriamo milioni di persone nel giro di una settimana, di un mese che sono costrette a venire nelle nostre zone, però creano problemi a noi, risolvono magari con molta difficoltà i loro problemi, ma pongono problemi a noi. Allora noi abbiamo questa necessità di cambiare le cose, di rimettere a posto le cose. Rimettere a posto le cose, certamente noi non ci aspettiamo questa valanga di voti che sarebbe assolutamente impossibile con il meccanismo elettorale creato da questa democrazia, però io vi assicuro che con una presenza nostra dei pensionati d'Europa nelle istituzioni, partendo dal basso, cioè dalle municipalità, portate in Consiglio Comunale, noi daremo filo da torcere a coloro i quali ancora volessero mandare avanti le cose così come stanno andando avanti. Innanzitutto faremo uscire Napoli dalla miseria. Quello che non ho è una camicia bianca, quello che non ho è un segreto in banca, quello che non ho è quel che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho è quel che sono le tue